Ahahahah! Cortaggi! Cortaggi! Eh dai, madonna, non dirvi che era difficile questo! Ma io non è una difficoltà, cazzo! Eh, cosa devo dire? Ma dai! Ah beh, ma guarda che scivola anch'io, eh! Ma io non dico che sia una cosa minchia, cosa scrivo il terreno! Eh, mica sei sporco o scusa? No, sono politico! Ma scusa ma... Ma dai! Sì, ma ti la metti sempre, però... Vabbè, la prossima volta veniamo su con la poltrona. Te lo io, lasciami la motelle con il motore. Potevano scopare sto giro, qui c'è chiedetta, e ti dobbiamo venire. Allora cos'è? Andiamo a passeggiare l'autostrada, ti va bene? Cazzo, è asfaltata? Allora fai la corte veda, per raggiungere la fila. Non c'è l'idea, non c'è l'idea, non c'è l'idea più lunga, non c'è l'idea più lunga. Oh 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 oh! La luna, la luna, ci ho luna... Luna, ci ho luna... Moon, Moon... E Moon... No, non è che... Hai finito? Hai finito? Hai finito? Eh, saluta la telecamera! grazie